salve cari amiche ed amici qui ancora una volta il vostro senten jane faccio colazione e vi saluto io volevo fare dei video già parecchio tempo fa per ringraziarvi delle numerose visioni del canale per esempio quando sono arrivato a quota 70 mila poi ho fatto altri video e ho da fare un momento e poi ho voluto a tantamila dicevo poi ho voluto fare dei video e c'è questo bel cucciolotto al quale gli piace guardare il vetro del mobile cioè mi piace guardarsi poi non ho avuto tempo di fare un video per quota 80 mila e si è sforato a quota 90.000 poi finalmente adesso stiamo a quota 100mila 791 del canale le visioni del canale sono state 100mila 791 quindi grazie a tutte e tutti voi per aver raggiunto superato quota 100mila visioni del canale che credo siano tutte le visioni dei video messi insieme e poi come sempre da qua si può vedere 7 2 2013 cioè in pratica volevo fare un video il 7 febbraio che ormai febbraio sta finendo perché il secondo anniversario del canale santo e cian di secondo anniversario di trasmissioni che abbiamo fatto quasi 500 video si adesso qua non lo dice più però sono 490 480 video forse 500 non mi ricordo allora sto prendendo il matri per colazione quanti di voi vorranno sapere che così potranno guardare dei miei video che ho fatto dei tutorial di gastronomia facendo colazione colmate come tutte le mattine o prendo il circo biloba una compresa o prendo la spirineta per prevenire problemi cardiovascolari se non siete allergici alla spirina vi consiglio di prendere una spirineta o un ginkgo biloba al giorno e poi anche gli isoflavonoidi un momento che al cane bisogna dargli distrazioni allora prendiamo la spirineta beh dopo due anni e 100.000 visioni del canale devo trarre delle conclusioni con mangio la frutta secca perché a omega devo trarre delle conclusioni dopo tante visioni del canale c'è ancora youtube non mi paga vorrei tanto cambiare il cellulare perché questo vecchio galazzini un 53 60 è un po piccolino anche se molto buono comunque vi ringrazio di tutti i like che avete messo a miei video ultimamente negli ultimi mesi sto ricevendo molti like questo significa che volete premiare la mia produzione e anche molti commentari io ve lo ringrazio molto credo modesti a parte che negli ultimi sei mesi sto ricevendo molti consensi forse quelli che mi avrei meritato un po prima perché quando uno fa il video per trasmettere qualcosa si aspetta che subito mi riconoscano quello che fa invece a volte bisogna avere pazienza per esempio metto nel google metto il titolo di un mio video e compare tra il primo di una lista di video quindi significa che è molto visto poi la cosa che mi piace che io non ho ricorsi tecnologiche c'è una filmatrice vedio questo cellulare non piace a 302 che gli ho regalato a mia madre c'è un cellulare che mi ha regalato lei e di samsung garazzi di un 53 60 e c'è un tablet che devo ancora riportare a riparare perché c'è la garanzia stessa perché non ha l'audio l'ha perso per filmare ma ho fatto qualche firmato anche con quel tablet tenendo il tablet è un po scomodo filmarsi però mi piace che chi mi guarda figo chi mi guarda sa che che io faccio così le cose come vengono casarecce e mi guarda e mi vota anche la quindi sento che posso avere la confidenza del pubblico che possa esprimermi liberamente dire quello che penso fare quello che mi che mi sovviene di fare non voglio fare un qualche cosa per parlare del genio per fare che sono bravo a firmarmi per fare un qualche cosa di commerciale non perché io non vorrei fare soldi non mi vendrebbe commerciale io voglio fare un qualche cosa che abili se mi dici la storia a ognuno di voi così come farebbe il vostro vicino di casa col cuccioletto è così prendete tutto addirittura da sotto la sedia la tela quindi non sono un po come il vostro vicino di casa mi parlo del più del meno per lo più e che dire sento che dei due anni l'ultimo è stato più creativo anche se l'impulso più forte lo avuto il primo anno se voi andrete a guardare i video che ho fatto all'inizio li ho fatti persino con un samsung 21 21 e con lg kp 215 che filmano dal chiavica infatti il mio ultimo video che ho caricato non caricato proprio con le leggi non so se pk o kp 215 quello piccolino che si apre a shell andate a vedere come in formato 800 x 600 non si sente quasi nulla devi aumentare a palla l'audio mi piace fare dei video con quel cellulare piccolino poi ve lo farò vedere il cellulare ma ho fatto un tutorial sul kp 215 penso prendo biscottino c'è una prima dentro che non ci siano in più così bravola saporizzata la fragola mi piace molto quando ero piccolo di sicuro di frutta di naturale c'era al 0,1 per cento tutto il resto non si sa che così può essere bu artificiale proprio però buono mentre a parte che frutta ci vuoi trovare nei biscotti la frutta del bosco ci mettono la pelle secca della cucca va bene allora ho fatto questo video perché nel passato ne ho fatti altri le mie cinque prime 5 mila missioni ai miei prime 15 mila missioni non sono titoli così e adesso ho voluto fare più importante ancora le mie prime centomila visioni che abbiamo passate peccato che non c'è anche un un indice che ti dica quanti like hai ricevuto che ne so i primi centomila like del canale perché le visioni va bene molte volte il tuo video appare in una lista di riproduzione video consigliati quindi fanno clic lì per casualità o youtube fa delle delle liste di riproduzione e ci mette video differenti insieme quindi capita anche il tuo e lo vedono lo aprono per casualità ma i like sono intenzionali quindi per me conterebbero di più il like del canale che non le visioni del canale poi come voi tutti saprete ma anche scritto nella descrizione sono disoccupato e quindi mi piacerebbe vivere di youtube anche se io ho iniziato a fare youtube per esprimermi perché per esempio avevo molti gruppi yahoo con il materiale mio però a differenza che facebook e google plus la gente si deve iscrivere per trovare il materiale poi ho chiusi perché gli account che avevo gli e mail non gli usavo molto che andavo nei computer pubblici allora si è tutto chiuso automaticamente e ho iniziato a fare youtube permette iniziata nel 2010 fino a inizio 2010 fine 2011 per poi non ho avuto più internet dalla fine del 2011 all'inizio 2013 allora iniziato da zero un momento veni vieni bene quindi proponete mi temi soprattutto io ho ascoltato della collaborazione in youtube ma non so come si faccia perché non so non so proprio io credo che bisognerebbe mettere video in common creative scrivere un commentario o scrivere in privato dicendo ho fatto questo video voglio collaborare con te allora si deve lavorare un progetto comune anch'io devo fare dei video in common creative poi quando si va in comunque nell'editore di youtube cercare in common creative con il titolo del video lì appare lo metti nel nell'editore o metti solo quel video incluso o metti con il video che hai fatto tu e poi di cui ci insieme editi un nuovo video magari cancelli quello che tu hai usato per fare il video in common creative e così c'hai dei video abbinati insieme certo le persone che collaborano con il loro materiale non si vedranno mai insieme magari e poi bisogna vedere chi detendrà il video cioè se lo facciamo in common creative allora tu fai un video io ne faccio un altro io sono molto video il mio e tu sommi il mio video al tuo e quindi alla fine tu rimani con una coppia del video e io con un'altra perché sennò i diritti d'autore a chi vanno a me o a te e quindi è da pensarlo bene come si lavora in common creative perché è interessante però poi per quanto riguarda i guadagni se ci saranno perché è da dubitarne che che ci guadagnerà però ecco faccio questo video alla spicciolata come si diceva a roma almeno prima che io me ne andassi da casa al paloco perché se no nei ritagli di tempo questa settimana non ci riuscivo prendo il flavonoidi che sono molto buoni di soia per evitare sempre coaguli domandate al medico clavonoidi allora dicevo che qualcuno mi informi riguardo la collaborazione in youtube che non so come funziona non so proprio come funziona però adesso vi lascio perché probabilmente vendrà un video pesante pesante e poi magari noioso perché mi sto ripetendo però a due anni dall'aver fondato questo canale di youtube vedo che sto acquistando esperienza pubblico visioni likes e sono molto contento spero che il canale dei cordi ma non come povero san gennaio decollato ma che decolli come un aereo anche perché vicino a casal paloco c'era più vicino è anche ciampino adesso vi lascio grazie a tutte e tutti nei commenti dei likes ma sempre a mangiare i figli di dacshan dacshan guardate il mio instagram perché ogni giorno carico tantissime foto e poi chi si iscrive al mio canale io mi iscrivo al suo chi vota like per me io cerco di portare like beh ciao vi lascio se no poi ed è molto tempo che non guardo le recensioni letterarie del nostro amico pietro trevisan mi sembra a volte io non mi ricordo i nomi in un video non so come lo chiamavo il cambio nome alla gente ma tanto sa che lui e lui o non è lui e lui o non è lui ma certo che lui volevo dire pietro trevisan se dicevo travisano travisan vabbè sempre lì no come dire sante dun santin chan santin can son san can tanto non ci sono molti in internet che si chiamino sante gian neanche gina e quindi io mi chiamo sante chan anzi mi faccio chiamare così io da solo non mi chiamo quindi se sin su san 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 king farebbe quasi lo stesso perché tanto metti nel motore di ricerca su sun e ti appare sante cian ma guarda un po guarda chi c'è guarda che sorpresa e adesso la sorpresa che vi devo lasciare perché sennò questo a caricare il video nella computare nel computer e lavorarlo a caricarlo in internet sei ore e mi mangio un sacco di luce io sono disoccupato quindi abbiate pazienza portate pazienza a saint jean che di sicuro farò un video migliore di questo magari no vabbè ciao grazie di seguirmi di votare like e di guardare i miei video con tanta infinita pazienza magari fino all'ultimo ciao ecco qua care amiche ed amici l'ultimo video mio l'ho girato con questo cellulare lg kp 215 nome completo lg kp 215 a come si può vedere la camera che filma in 177 x 144 ea fotografie di 640 x 480 però un audio che è una merda questo è stato il mio cellul primo cellulare intelligente molto bello purtroppo si è rotto la pressa micro usb e quindi è difficile ricaricarlo per quello mia madre nel 2013 a gennaio per il compleanno mi ha regalato il samsung galaxy young 53 60 e io poi per natale di quello stesso anno gli ho regalato questo cellulare il nokia asha 302 adesso questo tutto ho fatto un tutorial su questo cellulare vi lascio ciao ciao